Ecco qua Adriano, te lo affido. Dagli inizi in fabbrica alla rinascita dopo la guerra, il racconto della vita, dell'ingegno e della volontà del grande imprenditore italiano. Io ho un progetto. In questo progetto, un'impresa, non è solo bilanci. Per il ciclo Vite straordinarie, Adriano Olivetti, la forza di un sogno. La Olivetti dimostrerà che sviluppo e benessere degli operai possono andare d'accordo. La prima parte, giovedì, alle 21 e 10. È lo spirito stesso dell'Olivetti che è volato in questa macchina. Grazie.